nome e cognome di strada siamo a Pasquale prego saluto Ricolucci, la Nottibur, buonasera un commento a questa partita visto anche un po' nervoso intanto buonasera se dobbiamo commentare la partita commentiamo la partita però se dobbiamo commentare il finale è meglio non commentarlo rimaniamo sulla partita noi avevamo tantissime defezioni abbiamo fatto un'ottima partita con tanti giocatori fuori ruoli con 13 giocatori mancanti sapevamo di affrontare una buona squadra abbiamo preso gol nel nostro miglior momento abbiamo avuto la forza di far gol anche con una grande situazione preparata poi siamo venuti un po' meno sotto l'aspetto fisico però poi cambiando anche sistema di gioco la partita l'avevamo recuperata perché è l'ennesimo episodio non dare quel rigore al novantesimo quanto Tommasini è davanti se qualcuno mi spiega il motivo per il quale Tommasini non doveva calciare e poi oltre il danno la beffa l'espulsione di Vannucchi che subisce una testata di Cuda 4 minuti di recupero dove ho contato vi do la mia parola d'onore 2 minuti e 10 la sostituzione di Reginaldo 2 minuti e 10 secondi prendiamo calcio d'ancolo non ce lo fa nemmeno battere allora non è un episodio sfortunato il suo quanto non ci ha dato il rigore prego bene grazie 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 a tutti grazie a tutti